Non ci credo, Luigi ha appena preso un zarago con le mani in preparazione Non ci credo, non ci credo, dai Ma come cazzo hai fatto? Non ci credo, non ci posso credere Come cazzo hai fatto a prenderlo con le mani? È entrata una sbacchetta piccolina, ho preso le mani davanti e ho iniziato a chiuderla a destra e a sinistra e l'ho presa Non ci credo Con le mani Ha detto Luigi che prendeva un zarago con le mani Eccolo Non ci credo, non ci credo, con le mani l'hai preso Sì, sì Ha messo le mani in testa Non ci credo Sono i guanti della Omer, spider Buttalo nel ragno tele Guarda che è vivo, eh Ma è grande, oh No, 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 vabbè, è assurdo È il secondo che prendi con le mani, lui Eh, questo è bello, eh È il secondo zarago che prendi con le mani Ho detto merito dei guanti di Omer Dove stava? Sbbiato sotto una tanetta Vedete, infatti è tutto pieno di sabbia Ah, ah È stato tutto scaffato Infilato dentro Sì, sì, sì Di taglia Quindi hai infilato le mani e le hai preso Eh, le ho messo una mano dietro E con la coda sentivo che sbatteva Poi sono riuscito a trovare la testa Ma c'è le uova? No, no, eh L'intestino Assurdo